Passiamo alla prossima relazione che è a quattro mani e sarà tenuta dal professor Gianfranco Gianotti che ha insegnato per tanto tempo da noi filologia classica e Arnaldo Di Benedetto che ha insegnato invece storia della letteratura italiana. Prego Gianfranco. Sì grazie. Beh di solito si inizia con una dichiarazione come dire standard in questi casi sono onorato di essere qui con voi grazie per l'invito. Questa volta io invece ho ricevuto un pensum e insieme effettivamente all'onore che provo ho una certa dose di vergogna nell'intervenire per me in partibus infidelium ma in realtà sarebbe più esatto dire di una infedele che interviene in partibus infidelium. Io ho studiato testi giuridici saltuariamente in funzione di quelli che erano i miei interessi e la mia professione vale a dire di filologo classico. A questo punto però devo dire la sorpresa e il piacere di trovare un filologo classico dislocato altrove e questo in sostanza mi ha fatto per così dire sentire un po' l'aria di casa tanto più che la storia come dire generale di un personaggio come Federico Patetta ha dei punti in comune, dei tratti in comune con quella che è la storia della nostra disciplina delle nostre discipline antichistiche, tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi cinque lustri ma potremmo dire i primi vent'anni del Novecento. Se dovessi tentare una periodizzazione, tenterei la più difficile, vale a dire partendo da un testo che è del 1916, l'ha ricordato adesso il professor Padova Schioppa, vale a dire la prolusione all'anno accademico 1915-1916 tenuto nel novembre qui a Torino, siamo nel primo anno di guerra. Nel primo anno di guerra Patetta paga indubitabilmente il prezzo alla situazione, allo spirito del tempo, a quella che da battaglia degli spiriti è diventata oramai la guerra aperta, la battaglia dei materiali e non più delle idee. Se devo fermarmi addirittura, provate a sentire la prima frase, l'inaugurazione solenne dell'anno accademico che in mezzo alle armi e ai lutti gloriosi di una guerra veramente santa si compie in questi giorni nelle università italiane serve in realtà a compattare lo spirito di una nazione. Subito dopo il titolo di questa prolusione è civiltà latina e civiltà germanica l'organizzazione del testo è da una parte i pregi della tradizione latina dall'altra i non pregi, per non dire i mali, visti quasi tutti condensati nella storia della tradizione tedesca. E devo dire che questo genera immediatamente una sorpresa, perché chi abbia in mente la formazione di Patetta dalla tesi di laurea fino effettivamente all'inizio del Novecento, si accorda che invece con la Germania i conti tornavano e tornavano benissimo. Quindi lo spirito del tempo in realtà lo costruisce, vedremo che qualcuno cercherà di difenderlo da questa sorta di cambiamento anche un pochino duro nei confronti dei rapporti con il mondo tedesco. Ma se noi facciamo un passo indietro e pensiamo a quello che succedeva a un giovane laureato negli anni 1870 ci accorgiamo che Patetta, che si forma a Torino, che fa il perfezionamento a Roma con un professore che derivava da area germanofona in sostanza tenete presente che subito dopo l'unità l'Italia ebbe il problema di assetto delle scuole superiori e dell'università e recepì gli studiosi che si erano formati al di fuori dell'Italia anche se in Italia, nell'Italia geografica ben presente vale a dire quelli che erano nati, formati, che vennero studiato tra Milano, Venezia e Vienna. Con Schuffner a Roma e poi passando in Germania alla scuola di due grandi studiosi, uno è già stato ricordato, Enrico Brunner e l'altro è Otto Van Gierke che sono tutti e due degli studiosi che difendono la teoria o meglio l'ala germanistica della grande scuola storica del diritto di Fonsa Vigné che difendono in sostanza, o che sono alfieri della posizione della discontinuità tra la storia del diritto romano e le origini della scuola bolognese e che quindi in mezzo, in questo grande iato dal punto di vista della tradizione storiografica hanno ragione di organizzare e di essere diciamo chiamati come elementi costituenti degli aspetti giuridici i cosiddetti diritti germanici per noi ovviamente il diritto longobardico Patetta che proprio alluvione dei germani era espressione di Schuffer lui l'ha sentita a Roma e l'ha ritrovata ripetuta in Germania Germania non avrà sentito tanto l'espressione di invasioni barbariche ma di popoli che si spostano lungo nuove direttive ma la sostanza era appunto questa il giovane Patetta diventa uno dei giovani italiani che si schierano dei giovani studenti italiani studiosi italiani che si schierano con i cosiddetti germanisti cioè con l'ala germanica della scuola storica fondata da Savigny l'ala opposta era l'ala romanistica che è stata già ricordata e che aveva in Herman Fitting sicuramente il suo alfiere più importante dopo i personaggi che ho ricordato scusate lo studioso di maggior rilievo è un ebreo tedesco Moise Conn che si cristianizzò che salvò soltanto le iniziali di nome e cognome e divenne Maximilian Conrad Maximilian Conrad è lo studioso che disse preparò anzi il terreno sulla discontinuità della storia del diritto romano e del diritto giusti indiani una famosa recensione di Patetta proprio all'opera sulle fonti del diritto giuridico del diritto in età medievale di Conrad dice chiaramente che l'opera è fondamentale che questa è la posizione non solo prevalente ma è quella giusta accanto a questo però dopo una dichiarazione non enfatica ma certamente di aperto consenso Patetta incomincia anche una serie di appunti di serie critiche in sostanza a singoli aspetti dell'opera di Conrad quello che però voglio segnalare è che Patetta è uno dei tanti personaggi che della cultura italiana si forma in Germania gli aspetti per noi più evidenti e più vistosi proprio per il tipo di polemiche che hanno attivato sono poi quelli che parlano dell'antichistica di casa nostra vale a dire della storia della filologia delle scienze ausiliarie e della storia antica ma tra il subito dopo la come si dice l'unità d'Italia era traguardo ambito dei giovani studiosi perfezionarsi in Germania lo fanno tutti da Giussani fino a Giorgio Pasquali per ricordare sicuramente il personaggio più importante della filologia classica lo fanno gli storici antichi come De Ruggero e Dettore Paese Dettore Paese è un nome che mi sentirei poi di riprendere in un secondo momento come si spiega allora il cambiamento di un patetta germanista uso germanista tra virgolette cioè vale a dire a modo suo rappresentante della teoria della discontinuità della storia del diritto romano e quindi dell'importanza dei diritti barbarici con quella che poi è la prolusione del 1916 beh qui ci si arriva e ci si arriva davvero per vari passaggi il passaggio più importante potremmo dire si raccoglie nel decennio finale del secolo dell'Ottocento ed è la grande il secolo meglio il decennio della grande attività di patetta che si guadagna i galloni la cateta di macerata nel 92 e che continua in questa opera di lavoro sui codici sui manoscritti che è il punto di più alto che dovremmo dire ha perfezionato in Germania non c'è dubbio che le premesse c'erano tutte nell'università di Torino e nella specializzazione di Roma ma è Germania la patria della filologia è Germania la patria dell'Altertum Wissenschaft della scienza dell'antichità dove filologia paleografia epigrafia codicologia diplomatica in sostanza collaborano e si coniugano nel ricercare di dare dei documenti antichi una edizione tendibile e possibilmente il più vicino all'originale attraverso le varie fasi della trasmissione ivi comprese quelle delle storie delle scritture antiche in cui effettivamente bisogna dirlo Patetta è diventato un esperto di rarissima competenza allora in questo decennio Patetta diventa il professore di storia del diritto italiano attraverso la raccolta di saggi che sono edizioni di testi in cui i codici antichi rivelano per così dire ogni aspetto all'indagatore in cui l'edizione finale diventa un punto di partenza per la discussione di chi vorrà continuare a interessarsi di quell'argomento segnalo di questo periodo una cosa che mi pare di conoscere un po' meglio vale dire i tre saggi sui frammenti del codice teodosiano qui conservato qui a Torino erano i frammenti studiati da Medeo Peiron erano i frammenti editi da Carlo Baum di Ves Menel 34 se io ricordo bene sono frammenti che interessano più la storia della cultura giuridica tedesca che non quella italiana bisogna dirlo soltanto Patetta ritorna e tra le cose che sono un risultato sicuro siccome i frammenti sono conservati da un palinsesto quindi hanno la scrittura hanno una scrittura superiore che non nasconde del tutto la scrittura inferiore spetta Patetta l'avere individuato il testo sottinteso sottostante scusate ai frammenti del codice teodosiano e sono frammenti o meglio l'incipi dell'istoria Alexandri Macedonis di Giulio Valerio è un testo tardo antico che ebbe una discreta fortuna nella prima età medievale per far conoscere le gesta di Alessandro Magno dunque un decennio che è sicuramente filo tedesco ma che è filo tedesco non solo perché segue uno dei filoni della tradizione giuridica post-Savigny tanto per intenderlo ma perché è filo tedesco nei fatti della ricerca nel modo con cui Patetta è filologo non a modo suo ma con tutti i crismi di una competenza che davvero fa invidia non soltanto però gli addetti ai lavori del nel mondo giuridico ma anche agli addetti ai lavori del mondo classico in generale come mai nel 16 lo troviamo su queste posizioni di guerra santa e poi aggiunge non bisogna lasciare scrivere la nostra storia dalle penne tedesche perché loro non faranno mai una storiografia una storia attentibile bisogna che siano gli italiani eccetera cosa è successo Patetta vive in sostanza quello che hanno vissuto altri nel grande panorama degli studi classici proprio nel 1902 qui a Torino esce un volume di Giuseppe Fraccaroli che insegnava letteratura greca qui a Torino dopo Joseph Müller un moravo chiamato qui a fare letteratura greca intitolato l'irrazionale in letteratura ed è un attacco fortissimo nei confronti della filologia more germanico della filologia dell'Altertum Wissenschaft non si deve badare alla diciamo alle gambe delle M questa è una famosa frase di Fraccaroli però di un'altra opera bisogna trovare lo spirito dell'opera della grande opera in particolare poi i testi studiati da Fraccaroli sono l'Ilie dell'Odissea e scusate se poco nel 1903 Croce fa pubblica sulla critica come dire le verità della sua estetica Fraccaroli in modo un po' diciamo così dovrei dire rozzo rispetto a quello di Croce ma soprattutto Croce orientano verso la critica letteraria estetica quella che era stata invece fortemente praticata dagli italiani che erano stati in Germania cioè della critica filologica tutto questo avviene in una cornice che fa i conti con lo stato delle cose vale dire con il decennio che prepara la prima guerra mondiale vi ricordate abbiamo una prima alleanza con gli imperi centroeuropei e poi l'Italia finita i giri di Walzer si allinerà con l'intesa quando si scende in guerra ebbè allora la guerra degli spiriti diventa molto più aspra nel 1914 il patetto diventa socio nazionale dell'accademia ha come collega Ercole Ricotti che è uno dei personaggi che scrive la storia con pena tedesca e che lui continuerà ad attaccare perché Ercole Ricotti dirà che il diritto germanico ha insegnato la libertà della donna ha imparato a fare a considerare le assemblee che hanno autorità legislativa che sono passi verso un progresso civile per Pazzetta tutto questo è considerato non solo un errore ma eresia fortissima lo dice nella prelusione del 16 e lo continuerà a dire negli anni successivi ma intanto davvero le cose sono cambiate da quando arriva all'università di Siena e se leggiamo la prelusione del 2 che è la storia di una piccola città italiana in particolare Belluno ci accorgiamo che lui sta diventando storico dovremmo dire pieno titolo non solo storico del diritto ma storico di un insediamento di una comunità che è di per se stessa oggetto e devo dire piano piano non dico che nel primo decennio del novecento gli studi giuridici incominciano a passare in secondo piano ma certo invece aumentano gli altri diventa impressionante leggere l'elenco degli interventi sui materiali che fanno parte delle sue raccolte di collezionista e diventa oltretutto facile scoprire che su queste su questi nuovi oggetti di ricerca permane lo stesso atteggiamento scientifico della filologia classica della filologia che aveva parlato in Germania Pateta non sconfesserà mai quello che ha imparato dalla Germania in questo senso è un caso simile a quello di Gerola Movitelli che anche in piena guerra quando verrà attaccato come tedesco e quindi colluso con la cultura del nemico confesserà che moltissimo di quel poco che so io lo devo alla Germania probabilmente Pateta avrebbe potuto come dire sottoscrivere una frase di questo genere devo dire aggiungo subito una cosa per chiudere il discorso sulla prolusione dicevo tutti i mali sono nel mondo tedesco e Pateta quindi ha cambiato oggettivamente ma c'è una sorpresa finale che devo dire è ancora più sorprendente l'augurio che Pateta fa è che venga portato a termine il lavoro della rivoluzione francese fatta da una nazione latina magari noi la rivoluzione francese deve essere compiuta nel senso di portare a tutti egualianza e libertà eccetera eccetera e che le nazioni più piccole più deboli debbano avere non l'aiuto delle potenze maggiori ma possano contare su una sorta di solidarietà internazionale pronte a difenderle con le rappresaglie con la guerra stessa sembra una piccola carta delle Nazioni Unite davvero antelittera ma la cosa è sorprendente prima diceva il professor Soffietti un nazionalista moderato questo potrebbe essere un segnale di questi di questo aspetto tra il fatto che dopo il 16 le opere di Patetta saranno di letteratura italiana di storia pedemontana di storia del di storia europea Standale Rousseau non hanno per così dire sorprese la letteratura italiana poi vedremo è al centro di 5 ben 5 studi sull'anencia di Barberino approfitto questo e rubo un minuto al collega l'anencia di Barberino per Patetta non è di Lorenzo il Magnifico arbitrariamente attribuita tutti i titoli lo ripetono allora su questo lasciamo lo spazio ma fammi solo concludere con l'ultima frase ma la cosa interessante è che Patetta in questo senso come dire ripreso un suo atteggiamento pessimistico dal punto di vista euristico lui sa che non c'è un risultato finale della ricerca che la ricerca è sempre aperta e bisogna lasciare agli altri la possibilità di continuare anche questo tra l'altro pur Patetta iscritto al partito nazionale fascista e poi accademico d'Italia è una certezza che certamente non sembra propria del regime così come non è proprio del regime il modo con cui cita i classici un esempio una frase della sapienza del libro della sapienza biblica indica che siamo su questa terra destinati a passare per un giorno solo una frase di Euripide la frase finale di molte delle tragedie di Euripide sul fatto che l'uomo non ha nessuna certezza sul futuro chiuderà quella commemorazione di Fournier che ha ricordato il professor Soffietti e lo fa in luogo pubblico in adunanza dei lincei davanti alle autorità non solo accademiche ma anche in orbace questo è un Patetta che ci fa nonostante il suo nazionalismo per così dire moderato che ci pare davvero l'uomo di cultura e di cultura umanistica di cui dobbiamo a tenere aperta la memoria scusate grazie grazie diamo subito la parola al professor Gernando di Benedetto che dovrà pagare un po' lo scotto della della retorica del nostro filologo ma retorica questa me la paghi ai ai duello 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 il giudizio di Dio ecco appunto la relazione complessa del collega Gianotti ha introdotto ma veramente meriterebbe una avrebbe è un argomento questo meriterebbe secondo me una mezza giornata ecco forse di studio questo di patetta collezionista ma anche insieme studioso di ciò che collezionava non si limitava a mettere a comprare e a mettere da parte o ricevere doni e mettere da parte studiava anche ciò che aveva cercava di approfondire che poi fossero accettabili o no le sue i suoi giudizi eccetera e questo è un altro discorso ma patetta era anche uno studioso di ciò che collezionava tra l'altro ricordo tra le tante cose che ci sono alla Vaticana ricordo c'è il fondo alla Vaticana è preziosissimo proprio per questi manoscritti che sono lì c'è tra l'altro anche per dire solo qualcosa anche un manoscritto di Foscolo insomma non cosette da poco tutt'altro un altro fondo un fondo patetta è conservato anche alla scuola normale superiore di Pisa ed è mio modo di consultarlo in anni lontani quando studiavo Pisa e poi c'è la biblioteca e il fondo patetta della biblioteca Bobbio qui a Torino che non è solo la biblioteca giuridica ma che si va a consultare anche per libri di altri argomenti rari che sono conservati nel fondo patetta la nencia da Barberino temo che per molti sia non sia molto più che un ricordo scolastico alla nencia da Barberino dico solo due cosette preliminari è un poemetto un poemetto attribuito a Lorenzo De Medici è composto in rispetti è un insieme di rispetti il rispetto era una forma della poesia popolare toscana del 400 erano strofe di otto versi con schema fisso di rime detto in breve in esso il contadino Valera si chiama celebra nella maniera goffa ma che lui di cui lui però è molto convinto celebra la bellezza dell'amata nencia nencia probabile ipocorismo di Lorenza va detto che in generale il componimento può essere annesso alla lunga tradizione d'origine feudale della satira del villano da prima dura satira del contadino promossa dall'ambiente del signore poi diventata anche espressione del contrasto città campagna questo poemetto attribuito a Lorenzo va aggiunto è un'opera nel complesso colta ricca di in realtà studiare bene in controluce si trovano riferimenti boccaccio riferimenti teocrito insomma tante cose alla poesia cortese alla portia cortese ma tutto ripreso in contono molto buonario non è una satira feroce diciamo del contadino quella della Nencia da Barbarino ma diciamo uno scherzo buonario al suo indirizzo abbiamo della Nencia da Barbarino attualmente abbiamo quattro redazioni che vengono siglate con A V P M la redazione A è in 20 ottave la redazione V o vulgata che fu a lungo l'unica nota per qualche secolo l'unica nota è di 50 51 ottave strofe cioè quindi la 20 ottave la V 20 ottave 20 strofe la P cioè la patetta è un frammento in realtà come dichiara lo stesso antico copista del Quattrocento e poi c'è un'altra un altro frammento trovato pubblicato nel 51 quindi dopo le polemiche di Patetta dallo studioso Messina Patetta comincia nel primo articolo il primo dei cinque articoli pubblicati su questo argomento lo pubblica nel 34 sui rendiconti dell'Accademia dei Lincei parla di questo antico manoscritto da lui trovato da lui acquisito che si aggiunge quindi alla versione finora nota la cosiddetta volgata in 50 51 strofe o 51 ottave va detto che peraltro nel 1908 quindi prima dell'articolo di Patetta si era aggiunto al testo della vulgata 50 51 ottave si era aggiunto un'altra versione trovata da Guglielmo Volpi nel 1908 aveva pubblicato un testo in 20 ottave pubblicato sull'Iliati dell'Accademia della Crusca il manoscritto ha una data dice finito lo scrivano dice finito a di 11 ottobre 1476 c'è quest'altra versione che è solo in 20 ottavi l'attribuzione a Lorenzo dell'attribuzione della diretta attribuzione a Lorenzo erano noti documentazioni piuttosto tarde andiamo nel 500 XVI secolo testi dove la Nencia è citata come opera di Lorenzo degli anni 60 o 70 del appunto del XVI secolo però va detto in nessuna di queste citazioni della Nencia come opera di Lorenzo l'attribuzione a Lorenzo viene indicata come una scoperta personale o comunque un'attribuzione personale ma come una cosa ovvia insomma sarebbe come dire oggi i canti di Leopardi c'era evidentemente una lunga tradizione che attribuiva e che doveva risalire al 400 che attribuiva l'opera a Lorenzo ma vedremo un documento interessante lo darà involontariamente proprio patetta comunque l'attribuzione a Lorenzo ebbe grande fortuna grandi storici della letteratura italiana da Gengne a De Santes per non parlare in mezzo di Paolo Emiliani giudici anche Giacomo Leopardi hanno concordamente giudicavano non solo la Nencia come opera di Lorenzo ma come addirittura il capolavoro De Santes dice il capolavoro letterario di Lorenzo il Magnifico appunto dice all'incirca è proprio la Nencia e quando come ho già ricordato nel 1908 Volpi pubblica la redazione in 20 ottave subito si afferma un altro giudizio la redazione in 20 ottave pubblicata da Volpi è la redazione originaria di Lorenzo a cui successivamente data l'immensa fortuna che immediatamente ebbero le strofe della Nencia da Barberino a cui immediatamente si aggiunsero da parte di più autori anonimi si aggiunsero altre strofe che venivano cantate anche per strada e di queste testimonianze appunto farò cenno rapidamente nel nel 34 appunto nel primo articolo di Patetta Patetta per il momento non arrivò a negare completamente ancora l'attribuzione a Lorenzo ma che cosa disse disse il testo in 28 pubblicato da Volpi nell'8 il testo è attribuibile a Lorenzo ma non è il testo originario è il frutto di una scelta è il frutto di una scelta di fatto sulla sulla Volgata insomma una scelta di strofe messe assieme dando così un testo anche molto coerente dando anche un testo molto coerente e l'autore di questa scelta potrebbe essere dice per ora Lorenzo ma non il poeta diciamo ma non l'autore autore autore della scelta ma non autore vero autore del testo successivamente sempre nei rendiconti di lincei nel 36 pubblica un altro articolo lanencia da Barberino in alcuni componimenti latini di Bartolomeo Scala e qui pubblica alcuni testi di questo umanista e politico contemporaneo di Lorenzo chiamato anche Bartolomeo dei begli inchini che dice tutto insomma sulla volontà di ingraziarsi il favore dei potenti si tratta di alcuni testi latini di Bartolomeo Scala contemporaneo di Lorenzo che sono una ecloga latina intitolata Nencia appunto dove si parla della Nencia ma in latino alla maniera delle ecloghe classiche presentata in questa ecloga Nencia come una sgualdrinella e accompagnate questa ecloga da due lettere una lettera dello stesso Scala indirizzata a un amico di Lorenzo il Magnifico Sigismondo della Stufa e l'autore appunto invita Scala invita Sigismondo della Stufa a leggere l'ecloga Nencia assieme a Lorenzo ut com Lorenzio nostro rideas ridi con il nostro caro Lorenzo leggendo questa Nencia questo è detto nella lettera l'altra lettera latina che accompagna è un breve biglietto attribuito addirittura a Nencia alla stessa Nencia ed è indirizzata direttamente a Lorenzo Nencia Lorenzio Medici Salutem eccetera erano testi inediti questi databili all'autunno del 1474 e che Patetta ebbe il merito di far conoscere gli studiosi dalla lettura dei testi latini di Bartolomeo Scala Patetta credette di poter trarre la conclusione che Lorenzo non solo non era l'autore dei rispetti della Nencia da Barberino ma neanche aveva a che fare con la scelta e il riordino come aveva detto nel primo articolo neanche aveva a che fare con la scelta e il riordino in 20 ottave di quei disordinati componimenti ormai definiti da lui di origine popolare e rispetti popolari e quindi senza il nome di autori altri due drastici articoli Patetta pubblicò nel 1936 37 e nel 1939 negli atti della regia Accademia delle Scienze di Torino il primo sulla falsa attribuzione della Nencia da Barberino a Lorenzo de' Medici e secondo articolo ancora sulla Nencia da Barberino attribuita arbitrariamente a Lorenzo de' Medici tra quanti aderirono alla sua tesi alla sua tesi vi fu un importante studioso Vittorio Rossi il quale aveva considerato nel suo Quattrocento pubblicato dalla Vallardi un volume che è tuttora un punto di riferimento per gli studiosi Rossi dunque aveva giudicato la Nencia e la Caccia col Falcone i capolavori della produzione poetica di Lorenzo il Magnifico Nell'articolo del 1939 Vittorio Rossi era morto l'anno precedente Patetta dava notizia di una lettera privata inviatagli però dallo stesso Rossi nel 1937 e in questa lettera citata da Patetta Rossi dichiarava ormai ormai mi pare assodato per merito suo che la Nencia non è di Lorenzo si tratterà di componimento dovuto forse a più autori è venutosi da prima a crescendo da P a V dal testo Patetta al testo vulgato e poi rassettato da un autore più colto cioè il testo A in 20 ottava in sostanza adesione completa poco prima di morire da parte di Vittorio Rossi alla tesi di Patetta ma subito immediatamente proprio sorgono le obiezioni Santore De Benedetti nel 34 sostiene invece la priorità della Nencia in 20 ottave come era apparso subito già ai tempi della pubblicazione Volpi la priorità della Nencia in 20 ottave e della attribuibilità a Lorenzo il Magnifico il secondo articolo appena citato del 39 di Patetta è un virulento attacco a una giovane che a Palermo aveva pubblicato un libro intitolato La Nencia da Barberino e la question della sua autenticità questa giovane la Teresa Sala era stata allieva di Mario Fubini credo già a Palermo e Fubini stesso giudicava giudicò piuttosto maldestra piuttosto maldestro il tentativo di attribuzione della Sala a Lorenzo delle argomentazioni adotte l'ultimo articolo di Patetta è del 42 pubblicato ancora all'Accademia delle Scienze ed è una grande polemica con anche questa abbastanza dura polemica con un ampio saggio di Fubini stesso del 41 articolo nel quale Patetta ribadiva le sue convenzioni Mario Fubini riprendeva la tesi con nuovi argomenti la tesi della priorità delle 20 ottave sosteneva riprendeva la tesi dell'attribuibilità a Lorenzo il Magnifico e a questo punto la Patetta non poté più dopo questo attacco a Fubini non poté più ulteriormente replicare ma la questione dell'attribuzione non finì lì e chiudo accennando a due studiosi Alberto Chiari che insegnava la cattolica di Milano e Italiano Marchetti che attribuirono e tentarono un'ulteriore attribuzione del testo in 20 ottave a un poeta Bernardo Giambolare un poeta dell'età di Lorenzo il Magnifico venne fuori ancora negli anni 60 un documento ma sempre cinquecentesco che attribuiva la Nenza da Barberino a Lorenzo un documento una stampa del 1549 qualcuno ha cercato nei decenni successivi ancora di riprendere la tesi di Patetta ma va detto che l'attribuzione a Lorenzo è oggi generalmente accettata e mi scuso dei minuti che ho preso in più grazie grazie grazie